Il parto d'ora accademico è quasi scaduto, benvenuti a tutti, bentrovati al pubblico così conosciuto di Ghirlanda e non sto fuori dall'inquadratura, una voce che parla, che grida. Benvenuti appunto a chi ritorna e anche a chi è nuovo, a chi per la prima volta si accosta a questa esperienza di gruppi di lettura. Quest'anno abbiamo un ricchissimo parterre di proposte, sicuramente ce ne sarà per tutti i gusti, anzi per essere anche imbarazzati nella scelta, perché magari siete venuti già con un'idea ma magari la cambierete nel corso della presentazione. La serata di questa sera funziona così. Lasciamo la parola ai nostri appassionati lettori che propongono il loro percorso e al termine di questa presentazione, che durerà circa un'oretta, ci sarà lo spazio, il tempo e lo spazio per dividersi nei gruppi e cominciare almeno a conoscersi, a guardarsi un po' da vicino. Lascio la parola all'assessore alla cultura Laura Valli che ci fa un saluto. Buonasera, benvenuti a tutte e a tutti. Vedo che nonostante stasera si brucino le fascine del fuoco di Sant'Antonio, la nostra sala della biblioteca sia comunque così piena di persone, significa che, insomma, e non è facile a Brugherio contendersi il primato con il fuoco di Sant'Antonio, quindi benvenuti due volte, due volte. Almeno qua stiamo al caldo, diciamo, ecco, a un caldo, a un tepore, che non è un tepore solo ambientale, è un tepore, è un calore umano, perché vedere tante persone riunite con... Io leggo, eh, nei vostri visi la voglia di ascoltare loro più che me e la presentazione dei loro gruppi di lettura dice tanto, no? Del vostro modo di essere qui e della voglia, della fretta che avete di entrare a far parte di uno di questi gruppi. Quindi cercherò di essere... No, non cercherò, perché questo lo dicono tutti. Sarò brevissima. E anche perché vengo... Ho finito adesso una riunione in comune, quindi sono anche un pochino affaticata. E che cosa vi dico? Intanto che questa scommessa dei gruppi di lettura, che insieme alla biblioteca abbiamo voluto iniziare ormai cinque anni fa, questa è la quinta edizione, come sempre succede a Brugherio quando si fanno delle scommesse con i bibliotecari, di solito si vincono. Io non ho capito bene perché, o forse l'ho capito bene in questi cinque anni lavorando con loro. Molti di voi che già frequentano la biblioteca lo sanno, sanno dare una risposta a questa domanda e chi invece è un frequentatore meno assiduo della biblioteca lo scoprirà anche grazie a queste serate. Allora, la scommessa era una scommessa che sapevamo ricca di sogni, da una parte, ma di gravi, lasciatemelo dire, effetti collaterali. Nel senso che in questi anni ci siamo proprio accorti che succedono delle cose strane in questi gruppi di lettura, cose che raramente, mi dispiace che tu mi guardi così, ma è proprio vero, cose che raramente accadono nella vita quotidiana, nella frenesia di tutti i giorni. Uno di questi effetti collaterali, per esempio, è che cambiano i sapori delle cose. Cioè sapete quando prendete delle medicine che hanno, cambiano i sapori delle cose, porca paletta. Ecco, qui cambiano i sapori delle cose, di tante cose. Sicuramente il sapore della lettura, che chi di noi è un forte lettore, conosce, ha un sapore particolare la lettura. Quando condivido la lettura di libri con altre persone, possono testimoniarlo, i recidivi, quelli che proprio ci tengono tanto a avere queste, scopriranno effettivamente che il sapore della lettura di libri fatta insieme ad altre persone è diverso. E questo è un primo. Ma, dicevo, cambiano i sapori delle cose, non solo della lettura, anche dei rapporti tra le persone. Intanto si possono conoscere persone nuove che prima non conoscevamo. E questo, come dire, può essere anche un effetto collaterale, dipende se le persone che incontriamo sono simpatiche. In questi cinque anni mi pare che sia andata sempre bene. E quindi è un effetto collaterale positivo. Potrebbe anche capitare che, come succede nei gruppi di lettura, si legge un libro, lo si legge tutti, oppure si leggono diversi libri su un certo tema, si torna la volta dopo, ci si confronta. In un mondo in cui il confronto è fatto quasi sempre di urla, o comunque è piuttosto aggressivo, scoprirete che si può stare perfettamente a proprio agio, anche confrontandosi pacatamente, serenamente, in maniera, come dire, paritaria, dove ciascuno può dire la propria. Ecco, io di solito, a sorpresa, quando ho un po' di tempo, passo a spiare quello che fanno i gruppi di lettura, e in questi anni mi sono sempre accorta di questo, che parla chiunque, chi è un forte lettore e chi magari legge un libro ogni tanto, però è attirato dal tema o è attirato dalla novità. Nessuno si sente in soggezione, questo è un merito di questo tipo di esperienza. E poi, vabbè, l'effetto collaterale finale è sicuramente quello che chi di voi non frequenta assiduamente la biblioteca e si approccia oggi, o comunque con una certa, con meno consuetudine di altri, si accorgerà che effettivamente questa biblioteca non è solo una biblioteca, è una casa. E secondo me questo è uno degli effetti collaterali più belli, nel quale ciascuno di voi e ciascuno di loro, perché tra l'altro, ecco, dimenticavo questo gravissimo effetto collaterale, che queste persone che sono qui sono quasi tutte state contagiate, dal fatto che alcuni di loro hanno partecipato, come voi, ai primi gruppi di lettura, poi il contagio è stato così forte che adesso sono diventati i conduttori o i facilitatori volontari di questi gruppi di lettura. Quindi attenzione, perché potrebbe capitare a qualcuno di voi o di proporsi per la prossima edizione o di proporre dei temi o degli autori da leggere per la prossima edizione, o addirittura qui nascono anche idee nuove rispetto a iniziative che si fanno sul territorio. Il Poetry Slam, che è una gara di poeti, è nata all'interno dei gruppi di lettura. La rassegna scientifica di divulgazione scientifica, Scienza Ultima Frontiera, è nata all'interno del gruppo di lettura della Lampada di Diogene. e via discorrente, poi ne abbiamo avute altre. Luca Comics è nato all'interno del gruppo di lettura dei fumetti, eccetera. Quindi, come dire, anche questo potrà essere un effetto collaterale. Quindi mi fermo, saluto e ringrazio ciascuno dei conduttori, facilitatori di questi gruppi. Vediamo se la mia memoria mi assiste. Massimiliano, io i cognomi non ci sono, ruzzante, no, ma di nessuno. Davide, Riccardo, Mohamed, Fulvio, Cinzia, Andrea, Federica, Mario, e quegli altri due non me li ricordo. Grazie, veramente. Mi tolgo così la... Bene, sì, passiamo subito la parola a una decana dei gruppi di lettura, vi chiederete com'è possibile, visto che è solo cinque anni che li facciamo. Comunque, in realtà è da tempo che si preparava Cinzia Assi e la sua proposta su Dostoevsky. Perché un gruppo su Dostoevsky? Allora, perché se con... cioè, per la mia esperienza soggettiva rispetto al rapporto con questo scrittore, perché sicuramente Delitto e Castigo è uno dei primi romanzi grandi che io ho letto quando ero abbastanza piccola, ed è uno dei romanzi che mi ha conciliato con l'idea della lettura. Della lettura come una possibilità di conoscere altri mondi rispetto al mondo che vivi. E in questo, secondo me, Dostoevsky è un maestro. E Dostoevsky è un maestro perché, come ho scritto nel primo volantino di presentazione, il suo cannocchiale o il suo microscopio è proprio l'analisi dell'uomo. dell'uomo in tutti i suoi aspetti positivi, in tutti i suoi aspetti negativi, in tutte le sue caratteristiche che parlano all'intelligenza, che parlano al cuore, che parlano al rapporto con se stessi, con gli altri, con Dio. E quindi per me Dostoevsky è stato un maestro e mi piacerebbe poter condividere questa cosa, semplicemente condividere con un finale poi di lettura che sarà l'ultimo gruppo a giugno con i fratelli Karamazov, che io ritengo forse il romanzo più bello che ho letto. Quindi è per questo che ho fatto questa scelta quest'anno. Cinzia è stata meravigliosa, due dei quattro minuti che sono assegnati a ciascuno, quindi sapete che se no è implacabile il campanello suonerà al quarto minuto, deciderà poi lei a chi regalare i due minuti. La parola a Massimiliano Ruzzante che da lettore quest'anno è stato promosso, facilitatore di un gruppo su Stephen King. Buonasera a tutti, questo è il primo anno che modero un gruppo di lettura, come ha detto giustamente Enrica. Ho voluto portare per la prima volta alle Ghirlande l'horror, l'horror di un autore che credo abbia poco bisogno di presentazioni, Stephen King. È un gruppo che si propone di far conoscere le sue opere più significative, raffrontandole alle trasposizioni cinematografiche, poiché questo scrittore ha influito anche a livello, penso io, cinematografico, ispirando molti registi nel corso degli anni. Ma vorrei anche far scoprire a coloro che non lo conoscono bene il King non prettamente horror, perché l'etichetta di Re del Brivido secondo me nel corso degli anni gli sta giustamente anche un po' stretta, visto che ha toccato molte tematiche che ho voluto suddividere ciascuno per ogni incontro, tematiche che vanno dal potere, ammaliante e distruttivo della letteratura con il suo famoso Misery, riflessioni sulla pena capitale con il Miglio Verde, penso sia uno dei suoi lavori più noti, la morte e i suoi eterni ritorni, l'accettazione del lutto e quant'altro con Pet Sematary, il tema del doppio con Shining, anche se il buon Kubrick ha avuto modo di fare una sua interpretazione libera al romanzo e quindi qui sarà molto importante e interessante confrontare il testo e il romanzo con la trasposizione cinematografica e ho voluto concludere con una raccolta, dal mio punto di vista, tra le più belle, stagioni diverse, che affronta diversi temi, dalla speranza alla paura, l'innocenza alla corruzione, con opere che esurano dal genere horror, quali Il Corpo, e l'estate della corruzione, quindi Il Corpo, un ragazzo sveglio, l'autunno dell'innocenza, la storia, il metodo di respirazione, che è una storia molto particolare che associò alla paura, ma che comunque chiude una raccolta, secondo me, che ha avuto molte, molte trasposizioni, tre sui quattro racconti sono stati appunto tratti dei famosi film, tra cui Le Ali della Libertà, ecco mi sono dimenticato di accennare Le Ali della Libertà. Detto questo mi sono dilungato fin troppo, credo, e passo la parola al prossimo, e chiudo augurandomi che, insomma, possa interessare a voi questo gruppo, grazie. Certo, la situazione che c'è nel gruppo è più, come dire, confortevole che parlare da un tavolo, sappiamo bene. Una parola adesso a Fulvio Bella, di cui abbiamo accolto volentieri una proposta, perché voleva parlare di donne, come dargli torto? Dall'orroro alla poesia. Quali sono le motivazioni che ci hanno spinto a preparare questa ghirlanda? Da una parte sicuramente l'amore per la poesia, che sta alla base di tutto, ma dall'altra c'è anche questo naturale senso di ribellione contro l'ingiustizia, il pregiudizio, il luogo comune, che da sempre mi porto dentro. Sì, perché la poesia delle donne, verso la poesia delle donne, si è sempre esercitata una vera e propria ingiustizia. Del resto le donne hanno potuto sperimentare spesso questa cosa. Mentre invece, e quindi, mentre invece le poesie delle donne sono poesie bellissime. Ma sul fatto di questo discrimine vi porto un esempio che tutti voi potete toccare. Tutti voi avete letto antologie scolastiche o non scolastiche. Solo dagli ultimi tempi voi potete vedere nelle antologie di poesia qualche nome di donna, anzi, negli ultimi tempi abbastanza... Ma se pensiamo alle nostre antologie scolastiche, i nomi delle donne erano assolutamente poche, ma non solo. Quelle poche che c'erano rappresentavano quella poesia, quelle donne di tipo tradizionale che attraverso la scuola si cercava di portare. Quindi, secondo me, questo parlare della poesia delle donne vuol dire aprire un grande scenario alla bellezza in quanto tale, ma anche poi a una serie di riflessioni. Ma se fossero solo queste due, solo queste motivazioni, non sarebbero sufficienti. Il fatto che ho fatto, insisto, per questa ghirlanda è perché, come ho scritto nel volantino che accompagna, e invece chi parteciperà a questa ghirlanda scoprirà quanti e quali panorami di meraviglia si incontreranno per camminare per questi pensieri diversi, pensieri dimenticati e nascosti. Come procediamo? Non vi sto a elencare precisamente gli incontri, perché questi potete leggerli, però su come procederemo. Procederemo come anche le volte scorse. Due sono i criteri. Uno, poetesse italiane. Questo è un mio limite, ma io sul fatto della poesia traduzione faccio fatica in alcuni casi. Per cui sicuramente tutte poetesse italiane. Un altro criterio è giù per i secoli. Nel senso che noi potremo incontrare, andando su e giù per i secoli, si permettono anche alcune scoperte, ne cito una per tutti, come Compiuta Donzella, che troviamo all'inizio della nostra letteratura, che ha solo tre sonetti, ma chi li legge non potrà più scordarli. Però per chiudere, quindi non illustro i temi perché li potete vedere, però per chiudere volevo fare un regale a tutti i presenti, soprattutto a coloro che non verranno alla mia ghirlanda, dando loro un assaggio di meraviglia, leggendo una brevissima poesia di Antonia Pozzi, che la leggo perché ci permette di collegarci idealmente con tutti i cittadini brugheresi che in questo momento stanno partecipando al Folo di Sant'Antonio, perché si chiama Il Fuoco di Sant'Antonio ed è stata scritta proprio il 17 gennaio del 1935. Fiamme nella sera del mio nome, sento ardere in riva un mare oscuro, e lungo i porti di vampare roghi di vecchie cose, dalghe di barche naufragate, e in me nulla che possa essere arso, ma ogni ora di mia vita ancora, con il suo peso indistruttibile presente, nel cuore spento della notte, mi segue. Grazie. C'era una volta un giovane ragazzo che nel luglio del 2013 voleva a tutti i costi fare un gruppo di lettura, gli ho detto aspetta mo' che lo chiediamo anche a qualcun altro, questo è Riccardo, voi pensavate che le fiabe sono quelle, no lo so che voi non lo pensate, che le fiabe sono quelle di Walt Disney, però in ogni caso lui vi toglierà ogni dubbio. Grazie alla gentile presentazione, sono Riccardo, come già accennato, e quest'anno vorrei portarvi nel mondo delle fiabe. Tratteremo principalmente, chiunque volesse venire, fiabe di tradizione orale, quindi le fiabe che erano tramandate da persone, da popolani, ognuno in una versione diversa, e anche in posti diversi, magari contemporaneamente, e quindi cercheremo di far cadere alcuni miti su quelle che sono le fiabe, che ovviamente non sono quelle di Disney. La mia idea è di muoverci per l'Europa, quindi non sono riuscito a viaggiare quest'anno, ho viaggiato negli anni precedenti, e volevo muovermi comunque per l'Europa, quindi la proposta è di andare subito in Germania oggi, e nei prossimi mesi magari visitare l'Irlanda, quindi con Yates, o con la Briggs magari vedere anche le fiabe inglesi, che vuol dire folletti, fate, creature magiche di ogni tipo, muoverci poi in Russia, e vediamo, in Italia con Calvino, perché mi hanno obbligato a farci viaggiare in Italia, no? Va benissimo l'Italia. E fiabe d'autore invece con Anderson, che è uno dei miei preferiti, perché studiavo, ma poi ho smesso danese, quindi diciamo che è un po' giocare in casa, in un certo qual senso, però fa niente. Le fiabe non sono quelle che trovate normalmente nei cartoni Disney, non c'è sempre lieto fine, non sono sempre positive, e non sono sempre storie d'amore. Inoltre, negli ultimi tempi, soprattutto nell'ultimo secolo, sono state utilizzate molte magari in pedagogia, psicanalisi, chi più ne ha più ne mette, insomma, ne hanno fatto, hanno fatto dire ad ogni fiavola qualsiasi cosa. E secondo me, non dico tanto tempo perso, però sarebbe bello ripartire da zero, ritornare a quelli che sono i testi originali, possibilmente, beh, ovviamente in traduzione, perché io non so il russo ad esempio, ma non so neanche le altre lingue, per la verità, a parte l'inglese, e quindi rivedere da noi questi testi, cercando di trarne qualcosa, magari anche vendendole meno ai nostri figli, ai nostri ragazzi, o a chiunque voi abbiate a casa, che potrebbe essere piccolo, perché la fiaba è più di quello che sembra. E secondo me questo può essere un momento interessante per ritornare un po' nella vostra infanzia, chiunque di voi abbia letto fiabe, e riscoprire con mano quelle che sono le più grandi, credo, raccolte di fiabe della tradizione europea, che sono quelle che presento qua. Grazie. Bravissimi. E ora la parola a Mario Bertasa, che ci ha fatto una proposta, anche questa veramente rinunciabile, proponendo un percorso, appunto, che, come dire, ci vuole rendere eventualmente consapevoli di una cosa magari di cui non siamo consapevoli, cioè che incredibilmente abbiamo tutti una vita spirituale, magari non lo sappiamo, alcuni scelgono di averla in modo attivo, e quindi, come dire, ci si calano, ma in realtà tutti abbiamo questa dimensione, e lui ci guiderà in questa scoperta. Noi abbiamo anche due zampe, oltre che una vita spirituale, quindi due zampe e due piedi che toccano per terra, che continuano a farsi sporcare dalla terra che attraversano, e l'idea è stata, per questo gruppo, per questo percorso di lettura, proprio quella di indagare una dimensione di spiritualità che non necessariamente passa attraverso quelli che possono essere i contenuti di una dimensione religiosa, di una religione in quanto tale, di un percorso mistico, e via dicendo, né tantomeno da, che ne so, suggestioni che possono venire da un corso di meditazione, piuttosto che da un manuale di spiritualità che ci guida lungo le vie della consapevolezza e dell'illuminazione. Assolutamente no. Anche i cinque libri che trovate indicati nel pieghevole di presentazione non sono libri di spiritualità, di fatto, però sono libri che sono stati per molte persone fondamentali per un percorso di crescita, di maturazione, di consapevolezza. Quattro di questi autori parlano di Cammino. Uno no, però quello che non parla di Cammino demolisce una figura che per me è fondamentale demolire nella cultura contemporanea, ovvero la figura del guerriero. Ed è appunto il libro di Restrepo. Già abolendo la figura del guerriero, aboliamo la figura del guerriero spirituale. E qui potrei citare Salvatore Brizzi, ma tanti altri autori che propongono comunque la dimensione della spiritualità come una battaglia, come un percorso che si compie attraverso una lotta contro o una lotta per. in realtà spiritualità è anche tanto altro. È una cosa che ognuno di noi cerca nella sua esistenza. Io per primo, proprio proponendo questo gruppo, io faccio altro nella vita. Anzi, forse non ho ancora capito bene che mestiere faccio, perché l'ultima volta che proprio in questi giorni è uscito un video in cui si racconta un'esperienza di cui ho fatto parte l'anno scorso a marzo in Spagna, un bellissimo progetto europeo dove partecipavo come poeta e come performer e sono stato definito artista. E quindi ho fatto un po' faticare a ricollocarmi, però la cosa mi ha fatto anche piacere. Probabilmente non ho ancora capito che mestiere farò da grande e ancora per qualche anno mi potrò dilettare di ogni tanto lasciarmi prendere, lasciarmi coinvolgere, lasciarmi guidare, accompagnare da qualche lettura come quella che vi propongo e che io per primo voglio chiaramente rileggere, perché per me questa è anche un'occasione per rileggere cinque libri che mi hanno lasciato degli spunti nel corso della mia attività e che, come dire, mi piacerebbe condividere. Una cosa che non ho scritto nella presentazione e ci tengo assolutamente a sottolineare è il fatto che uno degli obiettivi che mi pongo come gruppo di lettura è anche quello di creare una piccola bibliografia a partire da questi cinque testi, lavorare insieme magari ogni serata, ogni incontro per creare un piccolo percorso che possa magari un domani servire anche a qualcun altro che vuole avere delle indicazioni di letture che appunto in modo molto tangenziale, sghembo, come dicevo prima, ci permettano di introdurci in una dimensione di riflessione appunto su questa dimensione, su questo elemento fondamentale del nostro essere umani, cioè lo spirito, la spiritualità, questa qualcosa che ci sfugge, che non conosciamo ma che c'è e quindi servire anche magari per altri. Abbiamo fatto partire il poetry slam e sono già oltre i tre minuti, che sono sì, sono i quattro quelli di stasera, ma sono già oltre i tre minuti che si usano nella gara del poetry slam, ma entro il quarto minuto concludo dicendo appunto che anche da qua chissà cosa potrà sorgere. Grazie. Non ci stiamo dietro a tutte le vostre idee però, lo sapete che non riusciamo. Bene, adesso i rabdomanti della luce avranno bisogno di molto olio quest'anno perché niente può poi di meno che il tema proposto dal collega questa volta un bibliotecario Ermanno Vercesi è appunto ignoto limite errore. Sì, è facile, è semplice, no? Ovviamente voi prendete tre parole di cui tutti pensano di sapere cosa significano e mettetele in dubbio. Cioè, troviamoci tra noi e diciamo ma che cos'è il limite? Cos'è l'ignoto? E cos'è l'errore? Noi siamo in un'epoca in cui con un click tu puoi googlare tutto e quindi abbiamo una conoscenza enorme però orizzontale non si va mai in profondità non ci si fanno domande non ci si lascia più sorprendere e invece il segreto del nostro gruppo è quello di non dare nulla per scontato di non presumere di sapere e con umiltà mettere insieme le forze perché ovviamente di fronte a queste tre parole che attraversano territori della scienza della filosofia ma anche della pedagogia della sociologia di tanti saperi umani uno da solo rimane come dire non ce la farò mai ma mettendosi insieme come tante piccole lampade si fa luce su una questione che sembrava così semplice e scontata e che invece ci riserva delle sorprese chi è Diogene? Diogene è il nostro maestro era il Socrate Pazzo era quello che andava in giro per Atene in pieno giorno con la lampada in mano e a chi gli diceva che fai? dice cerco l'uomo allora è quella luce che rinnega la luce del pieno giorno dice no ci vuole una luce diversa e poi cerco l'uomo cioè cerco una dimensione della vita più vera ed è poi l'effetto sorpresa che il nostro gruppo in genere verso maggio-giugno si ritrova a gustare vi dico come ha definito il nostro gruppo un partecipante dello scorso anno ha detto questo gruppo è stato bello mi è servito per tre cose primo mi ha fatto uscire di casa secondo mi ha fatto leggere dei libri terzo mi ha fatto parlare con altre persone il segreto è tutto qua grazie grazie Armando noi siamo sempre un po' controcorrente nonostante tutto continuiamo a essere onnivori preferiamo non fare scelte come dire come si capisce dal parterre adesso è il piatto è il momento del piatto del sushi secondo me con il gruppo di lettura dedicato al fumetto qui dalla prima edizione non rinunciamo mai Davide Mori grazie grazie Erika buonasera a tutti sono sono Davide e questo è il secondo anno che conduco il gruppo di lettura sul fumetto quest'anno ho scelto una tematica apparentemente poco originale cioè fumetto e cinema un'associazione diciamo abbastanza semplice facile ma che comunque riserva anche delle piacevoli sorprese perché diciamo che il cinema è dall'inizio degli anni 80 che ha cominciato a interessarsi al mondo del fumetto per due motivi fondamentali il primo la notevole evoluzione della tecnologia in eventi gli effetti speciali che permetteva quindi al cinema soprattutto hollywoodiano delle insomma delle pellicole molto più diciamo prorompenti interessanti dal punto di vista visivo e un secondo aspetto anche l'impoverimento diciamo delle idee da parte degli scenografi americani che non sapevano più dove andare a pescare nuovi stimoli e il fumetto ci si è resi conto che aveva un bacino di utenza molto ampio e delle idee soprattutto delle idee molto interessanti e poi diciamo era anche un piatto già pronto perché un fumetto è comunque visivo e non è difficile da trasporre su pellicola le scelte che dei titoli che ho fatto sono ovviamente scelte diverse da quelle che la gente potrebbe immaginare come i cine blockbuster alla DC Comics oppure della Marvel infatti questi due colossi sono stati volutamente messi in disparte perché diciamo abusati anche soprattutto negli ultimi anni e ho optato per diciamo un palinsesto un po' più ricercato diverso che potesse diciamo stuzzicare anche l'interesse di coloro che vorranno venire a far parte del nostro gruppo e soprattutto per quanto concerne il rapporto che c'è in questi titoli che ho scelto tra il fumetto in sé per sé e la sua trasposizione cinematografica dove in alcuni casi l'esito è stato sicuramente ben riuscito ottimo efficace ma in alcuni casi invece è stato disastroso ed è bello insomma anche discutere su questi aspetti e condividerli insieme il nostro gruppo molto appassionato divertente siamo quattro svalvolati se volete unirvi a noi ci farebbe piacere sicuramente vi divertirete passerete un'oretta e mezza due di spasso grazie ciao adesso attenzione a quei due perché abbiamo una coppia di facilitatori non bastava una persona quindi tempo doppio giusto due minuti regalati da Cinzia a Federica benissimo qua ci sarà un bel braccio di ferro come dire tra un appassionato cinefilo responsabile della nostra sezione videoteca della biblioteca civica Andrea Angioletti e Federica Reali che sapete già condottrice di gruppi di lettura grande esperta e amante di letteratura il braccio di ferro sarà non tanto sulla trasposizione dello stesso libro questo no in questo caso ma su come la letteratura e il cinema interpretano e restituiscono lo sguardo sull'altro però allora la parola bene buonasera a tutti benvenuti il titolo della nostra Cine Ghirlanda infatti è il cinema dell'altro l'altro con la A maiuscola nel senso che è un viaggio o noi abbiamo pensato ad un viaggio nella diversità nelle diversità meglio dalla diversità etnica culturale alla diversità generazionale alla disabilità come la chiamiamo noi noi l'abbiamo chiamata le diverse abilità dell'altro io vi illustrerai brevemente i titoli dei cinque appuntamenti e vi darei un film come suggestione per non raccontarvi proprio tutto allora è un viaggio che dal mondo arriva a casa nel senso che parte con il primo appuntamento che si chiama mio fratello che guardi il mondo l'altro migrante e quindi sappiamo di cosa parliamo il film che vi citerei è Fuoco a Mare che credo tutti abbiate visto se non l'avete visto è il momento di vederlo che ha vinto l'Orso d'Oro nel 2016 al Festival di Berlino nel secondo appuntamento tratteremo ci sposteremo sulla Terra Santa una Terra Santa per modo di dire nel senso che è uno degli angoli del mondo più dilaniati contrastati e sofferti quindi il conflitto arabo-palestinesi la diversità religiosa quando l'altro è a casa mia noi l'abbiamo interpretata e chiamata così e il film che vi citerei in questo senso è Il Giardino di Limoni perché parla di un limoneto che è simbolo di vita speranza pace colore sole che deve essere abbattuto per costruirci appunto un muro per la sicurezza nazionale quindi questo è un po' il senso del nostro appuntamento fin dalla Terra Santa all'alto sulla mia terra passiamo al terzo appuntamento che è si può fare anche qui in realtà come nel primo caso che poi vi dico non è è una citazione il titolo della prima serata si può fare in questo caso è il titolo della serata ma anche il titolo di un film con Claudio Bisio che credo tratti questo tema in modo molto semplice leggero frizzante ma allo stesso tempo profondo e che lascia il segno e il penultimo appuntamento invece è un po' particolare nel senso che abbiamo pensato all'altro come sfida limite eterna competizione con se stessi quindi cinema e sport e in particolare abbiamo pensato a una serie di film che parlano del dualismi tra personaggi che hanno attraversato la storia sportiva del nostro paese e del mondo e arriviamo il quinto appuntamento perché arriviamo a casa perché appunto la diversità dell'ultimo appuntamento è la diversità generazionale quindi l'altro a casa mia quindi il contrasto tra padri figli genitori figli e in questo senso direi che due film su tutti qui ne cito due perché spesso il dialogo perduto si ritrova tra genitori e figli nelle situazioni di sofferenza o dolore o disagio e citerei mia madre di Nanni Moretti e Nel nome del padre di Jim Sheridan che ha vinto sempre il festival di Berlino nel 94 Orso d'Oro ultime due cose poi lascio la parola alla mia co-conduttrice che avrà i suoi due minuti di presentazione in realtà il titolo della prima serata è il titolo di una canzone di Ivano Fossati che è appunto Mio fratello che guardi il mondo è una canzone di 25 anni fa contenuta nell'album Lindbergh lettere da sotto la pioggia da sopra la pioggia e vi consiglio di ascoltarla perché sembra che parli di oggi anche se è stata scritta appunto nel 92 quindi 25 anni fa le ultime due cose abbiamo inserito per ogni incontro su suggestione consiglio dei partecipanti dello scorso anno un libro per chi lo desidera quindi potrà integrare la visione dei film alla lettura di un libro naturalmente a tema rispetto al percorso indicato e abbiamo inserito anche più di un cosiddetto docufilm anche questa era stata una suggestione una proposta o suggerimento dei partecipanti dello scorso anno quindi sia Fuoco a Mare ma anche il Circo della Farfalla che è nell'appuntamento nel terzo appuntamento dedicato alla disabilità scusatevi è finito il tempo bene passo la parola mia co-conduttrice molto brevemente perché Andrea ha già spiegato quali sono i motivi per cui partecipare a questa ghirlanda i motivi sono proprio i temi proposti il tema proposto e i film proposti quello che mi piaceva dire su una ragione in più per venire è diciamo sta nel cambio di schermo sostanzialmente cioè che questo genere di tema il tema dell'altro è un tema che ci viene proposto quotidianamente dallo schermo dell'informazione dell'informazione televisiva che fa il suo lavoro lo fa molto bene non è una questione di confronto di arti ma è semplicemente che queste informazioni ci vengono passate quotidianamente ci sembra di sentire quasi fin troppo di parlare di altro notizie quotidiane i migranti che arrivano sulle nostre coste le giornate dedicate alle disabilità i conflitti di religione tutti questi altri vengono molto spesso nominati però se dal piccolo schermo della televisione si passa al grande schermo del cinema non ci giungono più informazioni ma ci viene regalato un racconto quello che fanno questi film è raccontare per immagini togliendo le parole eccessive quasi in eccesso che vengono dette riguardo a questo tema e lasciando piuttosto il gesto il silenzio l'emozione che non è emotività l'emotività fa leva sulle parti più fragili o al contrario più irose di noi per farci scegliere da che parte stare invece questi film ci danno emozioni dicendoci ti puoi identificare tranquillamente in chi vuoi anzi identificati nella storia identificati in tutti e due perché tu sei tu e sei l'altro non sei l'uno o l'altro quindi per questo motivo per come togliere retorica questi film non sono film retorici per come ci danno la possibilità di identificarci nell'altro di diminuire il numero di parole aumentare il numero di sguardi direi veramente vi invito a partecipare a questa ghirlanda dedicata al cinema dai qualcuno va anche negli altri gruppi però non tutti qua sentite quest'anno è andata così cioè non riuscivamo più a dire di no continuavano arrivare proposte e ci piacevano tutte e anche questa è una grande novità di quest'anno ci ha fatto molto piacere accoglierla ed è appunto quella che ci presenta Mohamed Nasf che è un giovanissimo musicista in forza tra l'altro alla scuola Piseri e che come dire è sorta appunto l'idea di in fondo anche di fare un gruppo in cui potersi confrontare sul linguaggio musicale sulla potenza del linguaggio musicale e il percorso che ci ha proposto ci ha affascinato un musicista appassionato e appassionante ve ne renderete conto subito Mohamed allora buonasera è il primo anno infatti che faccio da facilitatore per un gruppo è anche la prima volta nella mia vita che parlo a un microfono e allora il percorso è un percorso musicale l'unico in mezzo a diversi gruppi di lettura barra visione però l'idea del del gruppo di lettura comunque mi era piaciuta nel senso che è un mondo che condivido e utilizzare lo spunto del libro piuttosto che del film per approcciarsi al mondo della musica non so è un tipo di approccio che consideravo più facilitante anche allora io ad esempio nel mio approccio ad un libro sono molto interessato alla ricerca delle intenzioni dell'autore del motivo per il quale lui avesse voluto magari raccontare un fatto che magari neanche gli appartenesse ma utilizzarlo per esprimere un determinato concetto la stessa cosa la faccio nel momento in cui mi approccio a un compositore spesso nell'ascolto della musica classica non so la si vede come qualcosa di astratto mentre è molto interessante andare a indagare le personalità dei compositori che ci sono dietro ad esempio per ogni incontro avremo un punto di partenza diverso alcune volte letterario alcune volte musicale appunto è molto interessante andare a partire dai luoghi comuni ad esempio che si hanno sulla musica classica dai film da come i film hanno rappresentato gli autori musicisti per andare poi a scoprire chi sono le persone che hanno scritto dei motivi molto popolari quindi ad esempio nel primo parleremo di Mozart che è stato un po' gli è stata fatta una caricatura tramite il film Amadeus che è molto famoso nel secondo parleremo di Beethoven di cui sono infinite le musiche popolari di Beethoven ma non molti sanno che la sua vita è stata molto complicata e andremo ad indagare anche su questo la sua infanzia mentre ad aprile ci sarà l'incontro su Robert Schumann del quale non si sa molto e molti non sanno che oltre ad essere stato musicista dirigeva una rivista nel quale recensiva i suoi musicisti i suoi colleghi contemporanei quindi è molto interessante andare a leggere le sue recensioni e l'idea che un come ho definito addetto ai lavori aveva dei suoi colleghi quindi ci sarà ad esempio la recensione di Chopin che lui non comprendeva e lo definiva antimusicale oppure di Brahms mentre a maggio l'incontro su Wagner sarà come dire preso da un punto di vista extra musicale cioè quello filosofico e Nietzsche è un filosofo che ha come dire accusato particolarmente la presenza di Wagner quindi nella maggior parte delle sue opere e dei suoi libri che appunto leggeremo anche prima degli incontri comunque io dirò cosa leggere e cosa vedere insomma darà una sua idea di quello che ha rappresentato Wagner nel mondo della musica e non ultimo incontro invece non sarà basato su un singolo un singolo musicista ma sarà un po' un ritorno alle origini e alle origini delle forme che questi che queste figure hanno rivoluzionato ad esempio noi abbiamo l'idea della sinfonia di Beethoven però la sinfonia da dove proviene da dove nasce e chi ha creato un linguaggio musicale e con quali esigenze fine grazie mille grazie Mohamed ultima ma non ultima come possiamo immaginarci la parola Barbara Giusto bibliotecaria della sezione ragazzi collega quest'anno anche come dire abbiamo acceduto no non acceduto anzi ha proposto ai lei insomma sono anni che facciamo gruppi di lettura e ci dicevamo ma quando è che ne facciamo uno per i ragazzi con i ragazzi che sicuramente come dire è un gusto che pensiamo possa essere contagiato anche a loro Barbara te la parola sì infatti io volevo intanto tranquillizzarvi perché immagino che finora voi abbiate pensato ci picchiano adesso dove vado poi pensavo una cosa poi no vado alla poesia non al cinema però Dostoevsky però si fendendo il fume un disastro decidere quindi tranquilli perché da me non ci potete venire io non vi voglio ma non per qualcosa perché siete un po' fuori età innanzitutto credo che la maggior parte di voi non capisca neanche il titolo e spero che non lo capisca ditemi chi di voi sa che cosa significa il swag oh eh esatto era questo che speravo di sentire eh eh guardate un po' che lì ci sono due mani e voi siete un po' giovani infatti questo già vuol dire che va bene bene se voi avete in casa qualcuno di quegli esserini che un tempo vi dicevano ciao mamma ciao papà adesso vi dicono bolla quelli sono coloro che io tento di portare a un gruppo di lettura che di per sé è già una cosa da sfigati concedetemi questa terminologia sto cercando di acquisirla eh c'ho tempo fino a venerdì per arrivarci allora io vi dico cosa non si fa ehm assessore scusi può dapparsi le orecchie un attimo non si fanno schede libro non si fanno riassunti non si chiede ti è piaciuto ok ma si cerca di stare insieme di passare del tempo insieme e di fare passare ai ragazzi il piacere della lettura in un modo libero questo significa che se loro vengono al gruppo e non hanno letto il libro o non hanno nessuna intenzione di farlo a noi va bene lo stesso perché ora di giugno ce la farò a fargli eleggere almeno uno ok quindi io vi dico se avete dei figli dei nipoti degli amici dei conoscenti raccontatevi che c'è questo gruppo non obbligate di avvenire perché è il modo migliore anzi in realtà sarebbe meglio se voi invece di darlo voi a vostro figlio lo date al figlio dell'amica oppure la vostra amica lo dà al vostro no questa cosa qua io in realtà qua ho Linda ma Linda tu sei già una super lettrice e quindi fai tu da portavoce parte non dovevo ti ho fatto vergognare scusa sono un disastro va bene io sono qui stasera fondamentalmente per chiedervi di andare ma poi perché non potevo perdermi questo momento ho il microfono e una platea grazie grazie a tutti e naturalmente i libri scelti per il percorso dei ragazzi sono tutti dei capolavori secondo la modesta opinione dei bibliotecari allora adesso attenzione intanto che lasciate risuonare un po' le parole nel vostro animo per capire se confermate la decisione con cui siete venuti o se la ritrattate quindi due comunicazioni una diciamo le location così sapete dove andare voi sapete dove seguire le persone che volete seguire e intanto vi dico che la serata è stata registrata sarà da domani grazie a Massimiliano sul nostro canale youtube della biblioteca civica di Brugherio questo lo dico perché innanzitutto per farlo sapere salutiamo tutti i nostri concittadini al falò perché anche voi possiate eventualmente segnalarlo a persone che hanno perso la presentazione che è sempre un momento piuttosto importante per cui sarà disponibile non bisogna neanche iscriversi al canale si può vedere direttamente per cui questa cosa ci tenevo a dirla e la segnaleremo anche noi comunque agli utenti questo perché appunto in realtà le ghirlande ci si può anche agganciare in corsa quindi non è che è un corso per cui si parte oggi si va a giugno poi c'è l'esame finale no questo lo saprete bene però ci si può agganciare quindi eventualmente se si vuole segnalare qualche qualcuna di queste esperienze a qualche altro lettore benvenga ok adesso vediamo se faccio il mio dovere in modo giusto che sarà dunque Massimiliano Ruttante andrà col gruppo di Stephen King dove c'era l'anno scorso il gruppo di Federica cioè il tuo gruppo di nuovo ok quindi poi chi vuole lo segue così Davide va col gruppo del fumetto in zona fumetto quindi dove c'è loro sono sempre più fortunati le macchinette della zona ristoro l'ha detto che era un gruppo un po' così allora Riccardo andrà invece al piano superiore sbarcando dall'ascensore o dalla scala tutto a sinistra quindi magari poi sì 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 certo quindi Riccardo il gruppo della fiaba piano superiore quindi non in piano terra ma il primo piano prendendo le scale o l'ascensore guardando il bancone sulla destra sbarcando dall'ascensore tutto a sinistra ok va bene semmai sarà un gruppo vagante invece Muhammad sarà in mediateca quindi nella zona della biblioteca sempre al piano superiore salendo lo scalone grande la porta davanti dove ci sono i DVD e i CD di musica classica Fulvio andrà in zona poesia che vuol dire sempre piano superiore davanti al banco prestiti dove c'è la zona della poesia della biblioteca Cinzia andrà in una sezione inesplorata per molti che è la sezione storia locale poi dopo vedremo i numeri e se dobbiamo ridistribuirvi la sezione storia locale la si raggiunge in questo modo piano terra biblioteca ragazzi quindi entrando in biblioteca tutto a sinistra dopo la sala ragazzi c'è la sezione di storia locale Andrea e Federica rimangono qua perché abbiamo presunto che avessero in quel tempo bisogno anche di questa attrezzatura Barbara lo scopriranno i ragazzi venerdì dove farà il gruppo venerdì perché ok il gruppo non comincia oggi quello dei ragazzi ma comincia a venerdì lo facciamo di pomeriggio per ovvi motivi Ermanno è nella sua location dove ormai ci ha messo radici praticamente che è nella zona emeroteca della biblioteca quindi piano terra entrando in biblioteca tutto a destra in fondo a destra dove c'è i giornali la narrativa Mario allora Mario c'è posto in sala ragazzi oggi volevamo darti la scelta tra l'antro cioè la galleria espositiva che sa di un altro bello però c'è posto anche in sala ragazzi in tavolo apparecchiato quindi ok alla luce del sole bene siete stati bravissimi devo dire perché siete stati nei tempi perfettamente così abbiamo almeno un'oretta per conoscerci incontrarci distribuirci i libri dirci delle cose vi chiedo un grandissimo applauso per questi concittadini e bibliotecari che dall'autunno parlano con noi per arrivare a questo momento vi ringrazio del vostro impegno da qui fino a giugno grazie mille grazie mille grazie mille